Il miglior consiglio che mi sia stato mai dato è fissa un obiettivo e fai di tutto per raggiungerlo. È un insegnamento che mi ha dato lo sport e che poi ho preso come mantra per la mia vita quotidiana. Al momento sto svolgendo il mio progetto di tirocinio all'interno dell'università, degli studi di Pavia, dove sto completando il mio master in Pharmaceutical Biotechnology. Sto lavorando al fianco del professor Lolicato nella ricostruzione dell'albero filogenetico di una proteina, in questo caso un canale del potassio, che è implicato anche in numerose funzioni a livello cardiaco e neuronale. Questo progetto mi sta insegnando cosa vuol dire davvero fare ricerca e quali sono le skills che servono a poter migliorare in questo campo. Soprattutto è importante sapere interagire e integrare il proprio lavoro con quello di altri professionisti che vengono anche da campi e ambiti molto diversi dal mio. La borsa di studio della Fondazione Dompe è stata un po' un fulmine a ciel sereno. È stata sicuramente un'iniezione di fiducia in me stesso. Sapere che lì fuori c'è qualcuno che mi sostiene, che crede in me, a tal punto da sostenermi durante tutto il mio percorso universitario non può che lasciare sereno. Inoltre mi permette di essere indipendente e di non gravare più sulle spalle della mia famiglia. Mi permette di concentrarmi solamente sul mio percorso di crescita, sia accademico che personale. Se penso al mio futuro vorrei trovare la mia strada lavorativa, ma non solo. Vorrei trovare un luogo che mi faccia sentire valorizzato e che mi stimoli a migliorare giorno dopo giorno. Se lascio più libera l'immaginazione invece mi piacerebbe dare il mio contributo alla ricerca. Mi farebbe sentire davvero realizzato, sapere di aver lavorato e ottenuto dei risultati che possano in qualche modo concretamente andare a migliorare il mondo in cui vivo e la salute delle persone.